C'era un commissario nominato dall'ex governo, quindi nominato dal ministro Lorenzin, quindi diciamo in quota Partito Democratico, che evidentemente, nonostante fosse praticamente sempre in collaborazione con un presidente della regione, Partito Democratico, non sono riusciti a migliorare un bel niente, non solo non sono riusciti a migliorare niente, ma addirittura sono riusciti a peggiorare. Adesso noi abbiamo nominato il commissario, un ex generale dei Carabinieri e un tecnico che è un manager di riconosciuta e comprovata capacità tecnica. I due commissari, il commissario e il subcommissario, sono stati in Calabria e hanno incontrato il presidente della regione Olivero, chiedendo chiaramente nell'interesse dei cittadini calabresi, di portare avanti le iniziative insieme, sapete come si dice la leale collaborazione tra istituzioni? Ecco, insieme per l'interesse dei cittadini calabresi. Cosa succede? Succede che Olivero decide, in barba alla leale collaborazione, oggi di convocare la Giunta per nominare niente di meno che i commissari delle aziende sanitarie, che sono praticamente i vertici delle aziende sanitarie, quindi è la cosa più importante attraverso la quale tu controlli e gestisci correttamente una sanità. Vertici che vanno a sostituire i vertici precedenti che aveva nominato sempre lui, cioè quindi i vecchi direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere, chi li aveva nominati? Olivero. E sono quelli che hanno portato la sanità calabrese a peggiorare lea e a peggiorare il disavanzo. Allora io dico, se ti nomino i commissari, tu cosa fai? Giusto? Con i miei commissari, d'intesa, non è che te li impongo io, ma d'intesa nominate insieme i nuovi vertici. Perché? Perché ci vuole un segnale di cambiamento, perché non è possibile continuare a perseverare, perseverare, perseverare e spremere la sanità come se fosse un banco, ma a te farci quello che cavolo vuoi, con la gente che ti muore, le punti nascita, con le infezioni ospedaliere, tutto quello che succede. Perché non è che siamo tutti quanti deficienti, che non lo sappiamo quello che succede in Calabria. E con una sanità privata che si ingrassa le tasche come se non ci fossero domani.